Noi siamo un'azienda presente ormai a livello mondiale da 18 anni, siamo specialisti nel settore della carpenteria e tetti in legno. Abbiamo tutti i sistemi per la progettazione e la distribuzione delle nostre viti per un sistema di tetto idoneo per tutto quello che riguarda la carpenteria, poi abbiamo una seconda linea specializzata nel sistema terrazza, distribuiamo a livello mondiale i nostri prodotti specialmente e soprattutto nelle rivendite specialiste e abbiamo un sistema certificato a livello di ETA, DOP, Zulassum, quindi tutte le certificazioni a livello di carpenteria. Siamo presenti un po' in tutti i punti vendita italiani e anche in Europa a livello di strutture e fissaggi. Grazie.